Buongiorno a tutti, sono praticamente bloccata oggi così, adesso qua sul divano che sto un po' tremando ma sono, non lo so, non so neanche se essere felice ma sono felice, sono contenta perché ho appena avuto un'informazione importantissima in merito all'incendio della mia auto ho saputo che hanno trovato l'autore dell'incendio, la persona che ha piccato il fuoco e questo per me è importantissimo, è un inizio importantissimo, sono felicissima e per questo voglio assolutamente ringraziare la polizia e tutto il lavoro che ha fatto il PM ovviamente, tutte le persone che non so neanche perché non so minimamente come funziona l'indagine, non so minimamente tutte le persone che vengono coinvolte in una cosa del genere voglio ringraziare Monica, il mio avvocato assolutamente voglio ringraziare tutti perché dopo un paio di mesi comunque c'è la speranza che con quelle persone che commettono questi reati di merda prima o poi vengono beccate non posso dirvi altro, sicuramente tra un po' uscirà l'informazione questo è un inizio, sicuramente un inizio di un inizio di verità un inizio di verità e quindi volevo condividerlo con voi perché mi avete supportato moltissimo perché siete stati vicini voglio condividerlo con voi perché è giusto che voi sappiate che ogni tanto giustizia viene fatta e